Siamo presenti con una rappresentanza delle associazioni, siamo felici di essere stati coinvolti da parte dell'assessore Tragni perché credo che comunque la rappresentanza sportiva in questa cerimonia di chiusura sia importante e fondamentale anche per, come dire, farsi trovare pronti per quella che sarà la nuova stagione anche di Matera. Riteniamo fondamentale il ruolo dello sport e quindi oggi vogliamo, come dire, farci osservare e farci notare per questo. Siamo orgogliosi di poter partecipare a questa giornata di festa di chiusura per la nostra città e siamo stati davvero contenti di essere stati invitati dalle autorità e quindi ci godiamo questa sfilata colorata sperando che sia il calcio che lo sport materano possano dal 2020 in poi risorgere. Non è stato un caso che siamo nati proprio il 9-9-2019 quindi era fortemente voluta questa cosa perché ci sentiamo orgogliosi di essere materani e indossare questi colori. Quindi è un progetto sano, genuino, tutto bianco-azzurro e cercheremo di portarlo avanti nel migliore dei modi con i giusti valori fino alla fine. Uno sport che di fatto deve essere protagonista? Lo sport è sempre protagonista anche perché non è soltanto il pensiero sullo gioco ma lo sport racchiude tantissime tematiche a iniziare appunto dalla sociale non è un caso che negli ultimi giorni sia uscito un bando da parte del CONI per dare la possibilità a tutte le famiglie di poter fare sport a costi zero. Quindi sport sociale, sport vuol dire impianti sportivi, sport vuol dire scuola, sport vuol dire tantissime tematiche quindi è giusto che sia fondamentale ed è giusto anche dare un'importanza allo sport e quindi essere qui oggi è anche per sottolineare questo aspetto.